Bene, Jean, senza i dati, senza dati validi, chiaramente è pericoloso fare qualunque cosa. Non sono d'accordo, davvero non sono d'accordo. Credo che ad un certo punto si possa anche dire che si procede alla paralisi attraverso l'analisi, perché trascuriamo così tanto tempo per cercare di trovare le informazioni perfette, i dati perfetti, che non facciamo poi le cose e non progrediamo. La cosa che sappiamo è che ci sono degli sprechi alimentari che avvengono nei vari punti, nei vari passaggi della catena, della filiera alimentare, ed è opportuno agire, agire ognuno per la propria responsabilità. E se davvero ognuno di noi si occupasse della propria parte della filiera alimentare, ecco che il beneficio totale sarebbe enorme. Non dobbiamo perderci semplicemente perché non siamo sicuri se parliamo del 50%, del 60%, degli sprechi che ci vengono dalle aziende, oppure se è il 40%, il 50% che ci viene dai privati. Sappiamo che sono comunque due realtà che producono tantissimi sprechi alimentari, e quindi dobbiamo iniziare ad agire. Certo, se abbiamo anche i dati è fantastico e la ricerca deve occuparsi anche di questo e valutare quindi le cause reali degli sprechi, però credo che rendere le persone consapevoli è la primaria cosa da fare. Sicuramente è interessante questo concetto della paralisi dovuta all'analisi. Ora, a livello globale, qual è l'esempio da seguire, almeno nel tuo Paese? Beh, ogni volta che abbiamo visto delle cose buone verificarsi, è sempre venuto dal basso, dal basso verso l'alto. Ora, attualmente ci sono alcune città, dei governi locali, che effettivamente stanno facendo delle cose. Ci sono delle città che vogliono vantarsi di essere la città più verde negli Stati Uniti o nel mondo, e anche a livello globale. Quindi c'è sempre questa competizione, negli Stati Uniti comunque c'è questa competizione per cercare di essere sempre i migliori. Abbiamo San Francisco, Portland, Seattle, che effettivamente hanno dei sistemi di compostaggio per gli sprechi alimentari o per gli avanzi alimentari. Ora, cosa succede se questa iniziativa venisse fatta, diciamo, diversamente, quindi cercasse inizialmente di ridurre la produzione di sprechi, anziché occuparsi della loro gestione, come attraverso le donazioni, ad esempio. Prendiamo Austin e Texas, che ha l'etichetta di città verde, e pensiamo anche all'energia, o la quantità d'acqua che viene utilizzata. Ci sono tanti elementi di cui tener conto, ma non limitarsi quindi all'attività di compostaggio. Se abbiamo quindi il coinvolgimento del governo locale e dei cittadini e delle aziende locali, ecco, se tutti partecipano e danno il loro contributo, sicuramente il risultato è estremamente forte e potente. Io posso aspettarmi solo cose positive quando c'è il coinvolgimento di tutti gli attori in gioco. Ci si può entrare in contatto con le aziende del proprio territorio, con il governo del proprio territorio e, diciamo, incoraggiare il governo a fare qualcosa. I sindaci e i governatori sicuramente hanno un potere enorme, semplicemente per rendere sensibili le persone rispetto a questa problematica. Ultima domanda. Da europeo ad un americano io direi che in realtà la cosa che potrebbe essere fatta è di servire alle persone le porzioni più piccole. Sì, è vero, ed effettivamente è un problema reale. Effettivamente c'è una catena di ristoranti che ha ridotto le proprie porzioni, ma ovviamente a richiesta sono disponibili anche delle porzioni più grosse. E se io giustissi un ristorante, ecco che queste piccole porzioni potrebbero essere una grossa soluzione, perché va detto che quando si esce a cena spesso non si prende il dessert. E quindi se si offre meno cibo con porzioni più piccole, ecco che si è invogliati a ordinare anche il dessert. E il dessert costa parecchio, per cui in realtà se io giustisco il ristorante sarebbe nel mio interesse servire delle porzioni più piccole. Grazie mille, Jean. È stato un piacere. Grazie a te.